Gentili telespettatori buona giornata. C'è anche chi a sinistra è d'accordo con la Meloni e la difende. Non tutti sono ideologicamente schierati o ragionano in maniera ideologica, c'è anche chi ragiona in maniera normale. Nadia Urbinati, politologa della Columbia University, ospite nella televisione di sinistra la 7, nel programma di sinistra in onda con i giornalisti di sinistra Telese Aprile. C'è anche la presunta politologa di sinistra che però a sorpresa dice sono d'accordo con quello che dice Giorgia Meloni. Non possiamo dare a lei la responsabilità di quello che dice lui, il compagno Andrea Gianbruno. Lui ha detto una grande stupidaggine quindi io lo critico senza bisogno di tirare in causa Giorgia Meloni. La Meloni dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri del decreto chiamato Caivano fa la rassegna stampa e le domande che arrivano dalla sinistra non sono sulla legge appena approvata ma gli chiedono di Gianbruno. La Meloni dice io penso che abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella interpretata dai più. Io non leggo in quelle parole se tu ti comporti in un certo modo te la vai a cercare ecco ma una cosa simile a quella che mi diceva mia madre occhi aperti e testa sulle spalle perché la gente brutta gente esiste e non bisogna abbassare la guardia. La Meloni dice mia madre me lo ha sempre detto non è una giustificazione e non si tenta di colpevolizzare nessuno questo ci vedo io. Ad ogni modo dice qualsiasi cosa Gianbruno dica vengo chiamata in causa ma qual è il concetto di libertà di stampa? Vi prego di non chiedermi conto di quello che dice Gianbruno non devo dirgli io cosa deve dire io credo nella libertà di stampa. in questo caso vedete che anche questa Nadia Urbinati dice Meloni ha ragione no? ha ragione e quindi però quello che ha detto Gianbruno è sono delle cavolate no? ha detto stupidaggini ecco sono delle cose stupide quelle che dice Gianbruno quindi se un giornalista ma una persona qualunque dice a un ragazzo una ragazza attento in discoteca no? attento in discoteca non esagerare con quello che ti prendi che ti bevi perché poi in giro quando esci a quell'ora c'è brutta gente devi essere lucido per poter contrastare eventuali minacce che ci possono essere quando esci. Io continuo a vedere quello che ha detto Gianbruno quello che diceva la mamma della Meloni quello che diceva mia mamma quello che dico io ai miei figli io ci continuo a vedere buonsenso non ci vedo maschilismo non ci vedo politicamente scorretto non ci vedo colpevolizzazioni delle vittime non ci vedo niente dimostruose non ci vedo stupidaggini quindi secondo tutti questi ben pensanti di sinistra quando tuo figlio tua figlia escono la sera o il pomeriggio la mattina tu non dovresti dire niente perché non lo so perché perché se gli dici stai attento sto andando a fare una passeggiata in centro stai attento stai attenta mi raccomando testa sulle spalle non combiniamo cavolate non ci mettiamo nei problemi quindi un padre una madre un amico un nonno una nonna adesso non può dire nulla a dei ragazzi che escono perché se poi gli succede qualcosa cadono che ne so fanno un tamponamento con la macchina e tu dicendogli stai attento vuoi colpevoi colpevolizzare delle persone a cui potrebbe succedere qualcosa no ecco dicendo per esempio voi uscite in macchina e il papà dice attenzione guida piano guarda dai le precedenze mi raccomando ecco se voi dite a un figlio stai attento quando guidi allora stai tentando di colpevolizzarlo a priori nel senso tu vuoi dirgli guarda che se vai in macchina e combini qualcosa in macchina io te l'avevo già detto prima di stare attento quindi se combini qualcosa in macchina e poi vuol dire che non sei stato attento è colpa tua quindi tu stai colpevolizzando a priori un qualcosa che ancora non è una persona a cui non è successo ancora qualcosa o forse non succederà niente perché poi magari non è colpa sua l'hanno tamponato però tu dicendogli stai attento prima di uscire tu stai tentando di colpevolizzare una persona su un qualcosa che forse non avverrà mai diciamo che abbiamo ormai superato con questo politicamente corretto abbiamo superato credo ogni limite della decenza ogni limite della decenza guardate io ai miei figli come vi dicevo credo in un altro video proprio questa mattina sono andati a scuola mi raccomando attenzione comportatevi bene ci vediamo dopo mostro sono sono mostro perché gli ho detto attenzione comportatevi bene a questo punto sono contento di essere un mostro ho detto ai miei figli attenzione comportatevi bene stai tentando di colpevolizzarli perché poi magari succede qualcosa la maestra ti dice guarda che è caduto allora tu poi gli dirai ti avevo detto di stare attento quindi stai colpevolizzando quella persona senza neanche sapere esattamente cosa è successo mamma mia come stiamo messi o come state messi quindi giambruno ha detto una cavolata secondo una stupidaggine secondo un'altra di sinistra una stupidaggine io sinceramente con tutta la la buona volontà non ci vedo una stupidaggine no ma lui voleva dire ma lui non l'ha detto lui non ha detto quello che a sinistra pensano lui non ha detto quello che a sinistra pensano è quello che a sinistra immaginano che lui abbia voluto dire perché a loro fa comodo pensare così grazie a tutti e arrivederci a presto